Il campo basso coglie il terzo pareggio nelle ultime quattro partite. Contro l'Aquila emergono ancora di più le lacune offensive di una squadra che non mette in difficoltà più di tanto gli abruzzesi in grave crisi societaria. Si gioca di fronte a mille spettatori nell'infrasettimanale, mille spettatori di cui una manciata dall'Abruzzo, alcuni dei quali si sono fatti carico delle spese d'albergo e di trasporto dei giocatori aquilani. D'Agostino protagonista di due importanti occasioni tra l'undicesimo e il dodicesimo, la prima dopo palla servita da Sorrentino la punta prova a metterla di giustezza ma la palla esce di pochissimo sul fondo. Un giro di lancette e D'Agostino da posizione centrale alza di un paio di metri sulla traversa. Ancora D'Agostino stavolta è il ventesimo, raccoglie da corner e taglia l'area, ci sono i pugni di Farroni a sventare, ci sono anche gli aquilani per la prima volta pericolosi al ventisettesimo, discesa prolungata di Valenti, cross e chiusura in angolo di Sorrentino, battuto il corner, sbuccia il pallone Caffiero che poi si dispera per l'occasione persa. È il momento degli ospiti, al trentaduesimo la palla si impenna, saltano Fabrizio e Del Duca, quest'ultimo cade, tutto regolare, il tiro sporco di Fabrizio è intercettato da Bisceglia che salva il compagno Landi, tutto sommato la gara equilibrata, al quarantunesimo calcio piazzato fuori misura dal destro di D'Agostino, giusto il finale di prima frazione senza gol nei minuti di recupero. Il campo basso della ripresa è il difetto di non riuscire mai a dare la sterzata all'incontro, almeno nella sua prima parte all'ottavo tiro a giro di Gerardi si tuffa Farroni per deviare. L'ora dei cambi, Battistini inserisce Padovani in luogo di Boldrini, Foglia Manzillo a vicenda 2,98, dentro Scogna Miglio fuori Strianese, passa qualche istante ed è l'ora anche di Ingretolli, dunque una punta in più al posto di Gerardi, Leone torna a fare la mezzala. Al diciottesimo angolo di D'Agostino tutto solo Leone non sfrutta benissimo questa palla, al ventiduesimo la Niena vuole crossare, ne nasce un tiro che Farroni va a smanacciare in calcio d'angolo. Cala notevolmente il ritmo di una ripresa davvero molto brutta con il campo basso che è molto impreciso e poco lucido nella manovra a dieci. Dalla fine spazio anche ad Esposito, Lauri al posto di Leone, Foglia Manzillo prova in tutti i modi a dare la scossa ai suoi. Al trentasettesimo Ingretolli sbaglia banalmente un passaggio, ne può approfittare Sieno che se ne va sul fondo e mette pericolosamente in mezzo senza che nessun aquilano raccolga. Al quarantatresimo punizione sul mancino di Valenti, Landi devia in calcio d'angolo, finisce così 0-0 a Selvapiana nonostante i tanti cambi di formazione da parte di Foglia Manzillo che ha cambiato ben quattro pedine rispetto alla sconfitta di Recanati, il campo basso non riesce a battere l'Aquila. La società rosso-blu a fine gara striglia i giocatori e indice il silenzio stampa a San Marino domenica prossima. Corre l'obbligo di tornare al successo e ad una prestazione meno discontinua.